un momento un momento doc è un momento epico marty che doppia la mia voce credibile guarda chi c'è scusate sono ancora un po emozionato ma sono cose che non capitano spesso lui lo avete già riconosciuto vero è teo bellia la voce ufficiale di omniauto.it fuori com'è chi vuole viaggiare comodo invece è il nostro esperto di recitazione doppiato ma dimmi com'è cominciata cioè come sei diventato marty ma in una maniera molto semplice perché ci sono stati dei provini io ero fra le giovani voci emergenti di quegli anni ci è voluto un po per vedere i risultati alla prima schermatura ho passato la prima schermatura sono arrivato alle semifinali sono arrivato alla finale eravamo rimasti soltanto in due e devo dire che erano molto indecisi perché il confronto era tra l'altro fra me e sandro acerbo che professionista eccezionale oltretutto nell'impostare il personaggio ci somigliavamo anche molto vocalmente in pratica mi dissero che avevo vinto il provino facendomi una telefonata dall'america arrivò balia we like balia e quindi mi trovai a fare questo film e a doppiare questo ragazzetto nuovo di cui nessuno di noi sapeva niente perché non era nessuno ma marty mcfly ovvero michael j fox l'hai mai incontrato davvero purtroppo non mi avrebbe fatto piacere soprattutto poi quando ho seguito le sue vicissitudini personali no la malattia tutto il resto mi avrebbe fatto piacere ma non ci capita con tanta frequenza come ci si sente ad essere una delle voci più famose del cinema perché ritorno al futuro è letteralmente un film leggendario dagli anni 80 ma ancora oggi c'è gente che se lo vede di continuo a breve giro una sorta di imprimatur professionale perché avevo dato la voce al protagonista di un prodotto che fu forse il film più visto dell'anno e quindi inevitabilmente sono entrato nella serie a a livello ufficiale diciamo nel mio mestiere nella mia professione a livello invece più personale più emotivo mi ha come dire creato una sorta di doppia emozione e di responsabilizzazione maggiore rispetto a quello che facciamo il mestiere del doppiatore molti se lo chiedono io so che voi doppiatori siete attori cioè siete artisti completi tu qui siamo nella tua scuola quindi ci sono delle scuole per specializzarsi esclusivamente nel doppiaggio è la più tecnica delle specializzazioni del mestiere d'attore l'attore fa il cinema fa il teatro fa il doppiaggio fa la pubblicità fa un reading pubblico fa il presentatore intrattenitore in certi casi in ogni caso il doppiaggio diciamo di tutte le professioni dell'attore è quella più tecnica è quella dove il margine di personalizzazione è più ridotto e quindi come dico sempre io tu puoi fare puoi tendere a fare un falso d'autore non servono degli automi che doppi no altrimenti i campionatori vocali fra due tre anni dovrebbero essere vincenti no le voci ormai dei navigatori satellitari sono sempre più convincenti no però se non fai la differenza se non hai personalità se non sei qualcosa se non fai passare un flusso emozionale è inutile farlo omni auto tu lo conosci bene noi siamo anche malati un po di auto io anche di cinema ma di auto in primis una domanda sulla macchina la delorean di amici 12 una delle protagoniste diciamo al pari degli attori e si e si forse si ricordano tutti la delorean doc e marty e poi vengono gli altri attori no ma tu ne hai mai provata una ne hai mai guidata una ne hai vista ho avuto la fortuna di salire a bordo di diversa delorean anche perché grazie al cielo ci sono spesso i raduni gli incontri degli appassionati e devo dire che grazie anche ad alcuni amici appassionati ho avuto modo di farci qualche giretto non l'ho guidata io ma sono stato passeggero più di una volta quell'apertura delle portiere e alcuni elementi di design sono ancora di un'attualità sconvolgente grazie davvero grazie mille però adesso mi devi salutare come mi saluterebbe mal a distanza di 30 anni ancora non ho capito che cos'è un gigowatt comunque vienimi a trovare quando arrivi nel futuro avrò circa 47 anni anzi no a gennaio 56 ah sì eh sì parlo di me grazie ancora grazie a tutti vediamo se questi bastardi possono andare a 90